Quando in un'azienda si nega uno dei più moderni istituti dei diritti del lavoratore, la battaglia sindacale si fa tosta. Se però l'azienda che lo nega fa riferimento al padrone tra i padroni, ovvero il presidente regionale della Confindustria, ecco che la vicenda assume rievo nazionale. Si rivolgono infatti direttamente alla presidente della Camera, Laura Bordrini, alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, con la delega a pari opportunità, Maria Elena Boschi, alla segretaria generale CGL Susanna Camusso, nonché al presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, i segretari nazionali Filt CGL Alessandro Rocchi e Tatiana Fazzi. Sul tavolo il diritto negato del congelo parentale, ovvero la possibilità per entrambi i genitori lavoratori di astenersi dal lavoro facoltativamente entro i primi anni di vita del bambino. All'interno del gruppo Baltur di Teramo, azienda del trasporto pubblico nazionale e internazionale, di cui è amministratore titolare Agostino Ballone. Presidente abruzzese degli industriali. Questo rende il comportamento ancor più inaccettabile e intollerabile per i sindacati, oltre che disegnare profili di legittimità. L'organizzazione sindacale invoca e sollecita anche l'intervento degli organi di controllo quali l'Ispettorato del Lavoro ed IMSS. Sottolineando il silenzio e l'assenza di controllo della regione Abruzzo, la segreteria regionale del sindacato rimarca a sua volta che a violare queste norme è proprio quella parte dell'imprenditoria privata, particolarmente presente nel settore del trasporto locale, che pur inneggiando costantemente alle liberalizzazioni e alle privatizzazioni, realizza profitti e utili soprattutto grazie ai finanziamenti pubblici nazionali e regionali. Il riflesso pratico della protesta è l'annuncio di prossime iniziative di protesta e presidi dinanzi alla sede Terramala dell'azienda di trasporto pubblico.